La conferenza unificata che riunisce la conferenza Stato-Regioni e la conferenza Stato-Città-Autonomie-Locali ha approvato l'intesa che assegna l'Abruzzo 1.025.000 euro del Fondo Integrativo per i Comuni Montani. Le somme andranno a finanziare iniziative a sostegno delle attività commerciali in quei centri in cui non siano presenti o lo siano in misura non sufficiente. Il sostegno riguarda sia l'avvio, il mantenimento e l'ampliamento degli esercizi sia una serie di servizi collaterali come la consegna a domicilio delle merci. Possono presentare la domanda di accesso ai fondi, i comuni completamente montani o loro aggregazioni. In Abruzzo potranno essere finanziati 29 progetti annuali, ognuno dei quali riceverà fino a 25.000 euro e tre progetti pluriennali per i quali sono disponibili a trettanti finanziamenti da 100.000 euro l'uno. A quest'ultima opportunità possono accedere aggregazioni che comprendano almeno tre comuni totalmente montani. La Regione entra in 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze che sarà indicata in un successivo bando predispone la graduatoria dei progetti e trasmette al Dipartimento per gli affari regionali che provvederà alla liquidazione del contributo.